a parte le sfilate, ma tutto quello che ci hai raccontato per anni erano notti d'amore, amore, questa è una trasmissione d'amore, non di sesso, va bene? le notti di fuoco, le notti di fuoco erano notti d'amore, ricordatelo bene e non tocchiamo quelle notti e quelle storie, e la storia, soprattutto una storia perché tu ti rifai sempre quella storia lì allora, tu cosa dici? questa è una trasmissione dove si tratta l'amore ma tu hai impostato solo sul sesso, ti sei lamentata per anni di uomini che non prendevano iniziativa, li accusava, te lo ricordo Gianni li accusava, ma non si fa niente, ma come mai? Maria guarda ti giuro, se domani non ho un'ora di tutti gli scandali di tutti gli scandali che lei ha fatto, ti giuro che non metterò più piede in questo studio uno è troppo Gina, no, Maria tutti gli scandali che ha fatto ma uno è troppo, ma uno è troppo, sarà mezz'ora tutti gli scandali che ha fatto, quando lei ha parlato di sesso ma quali sono gli scandali? quando lei veniva tutta raggiunta, se abbiamo fatto l'amore cioè tutto, adesso questa trasmissione è basata sull'amore e non successe, una donna che ha cercato solo sesso e preferirei non sporcarla grazie a tutti